Io sono Barbara Dami, sono un'insegnante di scuola primaria e una musicoterapeuta. Qui al Junior Training mi occupo del laboratorio sulla narrazione. Che cosa facciamo in questo laboratorio? Sostanzialmente accompagniamo i genitori e i loro bambini alla scoperta dell'importanza del raccontare, del raccontare le storie ma anche del raccontarsi utilizzando degli strumenti che ci facilitano le cose. È importantissimo accompagnare i nostri figli, i nostri bambini alla scoperta anche del proprio mondo interiore che esce appunto nella narrazione, nel raccontare storie, nel partire da alcuni personaggi, nel vedere alcuni personaggi che evocano le nostre emozioni più profonde. Le fiabe non servono a farci capire che c'è l'uomo nero, che ci sono i draghi. Questo i bambini lo sanno già. Le fiabe ci aiutano, ci insegnano, ci aiutano a capire che questi draghi si possono combattere, è che questo San Giorgio che combatte il drago c'è in ognuno di noi e questa è sostanzialmente la funzione della fiaba. Quindi impareremo a costruire delle fiabe, lavorando su tematiche mitologiche generali, impareremo anche a raccontare la storia personale dei bambini e poi ci saranno dei momenti privilegiati in cui racconteremo le fiabe tradizionali della nostra cultura italiana. Ho la fortuna di lavorare qui al Junior Training da 14 anni e quindi da quando è stata fatta la prima edizione e quindi sono un po' cresciuta insieme al Junior Training. Per me è la possibilità tutti gli anni di confrontarmi, di confrontarmi con gli altri facilitatori dello staff, di crescere insieme nel costruire e nel proporre i laboratori. Il nostro compito è accompagnare anche questi genitori a scoprire che la risposta non gliela possiamo dare noi, ma ognuno di loro trova dentro di sé la risposta per stare in maniera più efficace, efficiente con i propri figli nella costruzione di una relazione che è nuova perché si basa su un tempo dedicato sia come misura, quindi con una quantità di tempo ma anche con una qualità di tempo diversa ed è questa che fa la differenza e porta ad attività di mediazione che porta dei risultati straordinari. Quindi le famiglie arrivano con vari tipi di attitudini e di atteggiamento e la magia del Junior Training è che in soli cinque giorni ognuno arriva con dei punti di partenza diversi ma c'è un lavoro condiviso che porta a fare a tutti un passaggio straordinario. Si arriva in un modo ma si parte sabato da qui con una metamorfosi interiore straordinaria. La cosa più bella del Junior Training per me è la possibilità del confronto, del confrontarsi con persone diverse che fanno lavori simili ma diversi nelle modalità, con mezzi diversi quindi con metodologie di trasferimento diverse ma anche il confrontarsi con le famiglie che arrivano che vengono da stili educativi diversi, da culture diverse, da modo di stare insieme diverso e lo stare proprio insieme nello scambio, nella relazione è la magia di questa settimana. Grazie a tutti.